156 attraverso corrado piancastelli entità a il medium viene percepito dall'entità come una luce e si capisce la luce è una figurazione che tuttavia può essere captata nei termini di un certo tipo di energia che attira particolarmente le entità e poi costituisce in realtà i substrati fondamentali dell'anima stessa cioè vi è un enorme somiglianza del meccanismo dell'energia medianica e l'anima tutte e due sono mediatrici sono come dei corridoi che consentono allo spirito di avvicinarsi quindi vi sono delle somiglianze nelle loro strutture energetiche in fondo un uomo avendo un'anima già attira è un elemento di conduzione di avvicinamento però ci vuole molto di più per creare l'individuazione per creare un vero e proprio canale di trasmissione esente da impurità manovrabile adattabile vi è somiglianza tra queste due anime dal punto di vista qualitativo spirituale evolutivo ogni anima è strutturata anche in base all'evoluzione dello spirito e certi processi evolutivi del soggetto medianico hanno la loro importanza come sollecitazione possibilità in teoria la qualità dell'entità che si manifesta potrebbe anche essere completamente diversa da quella del soggetto medianico tramite il quale essa si manifesta ciò a volte si è verificato ma in genere la gamma dell'entità che si manifestano riproduce l'evoluzione del soggetto in un certo senso potremmo dire forse abbondando col linguaggio convenzionale che la medianità è una malattia dell'anima un tumore dell'anima infatti la sua rarità sta proprio nel fatto che deve verificarsi un fenomeno di scissione di duplicazione fenomeno che poi sostiene con un'altra serie di forze che si mettono in moto e che danno a questa seconda anima dei particolari caratteri di utilizzazione la medianità naturalmente è una malattia dell'anima in senso strutturale non in senso filosofico continua